Molto bene, Leo. Ho trovato un tronco dietro al capanno degli attrezzi e mi sono ricordato che ti devo impartire una lezione su come si usa una motosega. Ok, Bob. Ti assicuro che non vedevo l'ora di impararlo. Ricorda che la motosega è un arnese davvero molto pericoloso, quindi bisogna maneggiarla con la massima cautela. Certo, Bob. Ecco perché mi concentrerò ancora di più questa volta. Ottimo! Quindi, per prima cosa, l'attrezzatura di sicurezza. Serve un equipaggiamento. Guanti, occhiali di sicurezza e cuffie antirumore. Ok, adesso fa un passo indietro, Leo. Vado ad accendere la motosega. Si deve tirare forte la corda di avviamento fino a che il motore non parte. Si toglie la sicura, si preme il pulsante acceleratore e si inizia a tagliare. Scoop, Mac, Lofty, venite qui a vedere. Bello! Fantastico! È una cosa incredibile! È davvero impressionante, Bob. Ma non credo proprio che riuscirò mai ad eguagliare la tua bravura. Serve solo un po' di pratica. Ehm, avete visto un tronco da qualche parte? L'avevo ordinato per l'altalena che sto costruendo al parco giochi. Oh! Ah! Ops! Credo che forse sarai costretta a ordinarne un altro, Wendy. Anzi, perché non ti siedi mentre lo faccio io? Oh! Eh? Ah!